Ciao a tutti, rieccoci qui, buona domenica tra l'altro, oggi è domenica quindi è passata una buona domenica e nulla, io nel mentre mi accingo ad aprire qualcosa di questo calendarietto fai da te e nulla, qui di solito non ci sono sorprese Disney ma può capitare da qualunque, da Aliexpress a qualsiasi altro, da horror a cose carine, e apriamo questo qui, quale apriamo questo? Ok, e vedete che per l'appunto è una carta con Babbo Natale, ovviamente la mia estrema grazia porta sempre a delle conseguenze disastrose per la carta purtroppo, tanto verrà riciclata per me probabilmente, quindi non preoccupatevi, ah che bello, oddio aspettate che c'è lo specchietto, guardate quanto è bello, questa qui è una decorazione per l'albero, ovviamente in teoria per l'albero, non so dove la metterò io, perché l'albero è a tema Disney, però questo potrebbe starci in realtà a tema Disney, sembra un pochino tipo lo specchio delle prame o qualcosa del genere, specchio specchio delle mie prame, è super glitteroso, vedete già che ho le mani piene di glitter e per l'appunto qua, oddio, non voglio farmi vedere, abbiamo la parte riflettente, quindi è uno specchio over proprio, ci sono tutta una serie, continuate a vedere, mi aiuto, ci sono tutta una serie appunto di glitterini, glitterini o comunque brillantini, tra virgolette, che sono messi nella parte frontale dello specchio e per il resto appunto lo specchio si presenta in questo modo, qui vedete riflessa anche la mia maglietta con il gatto, tutta super morbidosa, comunque lo specchio è veramente molto carino ed è anche abbastanza grande in confronto alla mia mano, è più lungo, quindi ecco qua potete specchiarvi tutti i giorni con questo, direi che è ottimo, ottimo ovviamente, e nulla, lasciamolo un secondino qui, di modo che si vede, per fortuna non mi riflette neanche. Ora apertura consueta per l'appunto delle figurine, e queste figurine mi sono state portate per l'appunto dal mio fidanzato, quindi da Andrea, che ringrazio, e niente perché sto facendo la raccolta, questa vedo già che manca, mi sembra, Topolino cresce, c'è scritto dietro, ed è la numero per l'appunto 12, di 36. Dopodiché abbiamo una versione di Pippo Scalatore che manca, poi abbiamo una sorta di Uomo delle Nevi, o forse un Uieti, boh qualcosa del genere, che sta cercando di attaccare Pippo e Topolino, qui abbiamo Topolino versus Topolino, questa con Eta Beta ce l'ho, e questa qui invece manca ed è una versione ovviamente di Mini e di Topolino vecchissima con un Pluto altrettanto vecchio, che suppongo abbia mangiato per l'appunto i fiori, sì, credo che questi siano dei fiori, e suppongo che lui se li sia pappati, e nulla, Topolino un po' affranto, Mini invece contenta, e niente, quindi questo per l'appunto è lo spacchettamento di Domenica, e ci spostiamo per l'appunto dall'altra parte. Ok, 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 eccoci qui con il calendario dell'avvento, dobbiamo aprire al 16, oggi è domenica 16, se non vado errato, e niente, scusate se ogni tanto si muove tutto, ma sono, ecco, bravo mattini il cavalletto, ha qualcosa a servo, e niente, ad occhio e croce ha un personaggio, cosa dire che è un personaggio, ah, forse si esce da qui? Sì, la prima che riesco ad aprire, ad aprire la sedicesima giornata, è, sì, guardate che bello, che bello, è Christophe, è Christophe di Frozen, per chi non lo sapesse, in versione bambino, quanto è carino, lo vedete, spero che riusciate a vederlo, sì, ecco, lo vedete, io ho ancora le mani sparche di glitter per lo spacchettamento precedente, guardate che carino, è fatto molto bene, è carinissimo, ecco, così da vicino lo vedete ancora meglio, ha le lentiggini per l'appunto, e i capelli sembrano leggermente non glitterini, ma comunque un po' luminosetti, diciamo, non lo so, tipo come se fosse stato spruzzato dello spray, un po' metallizzato, della pittura metallizzata, qua c'è la cinturina, la cinturina è altrettanto curata, e niente, presenta per l'appunto questa, questa specie di pedana di piedistallo con la neve, e lo andiamo per l'appunto a collocare poi vicino, vorrei farvi vedere quindi i tre personaggini, le tre figure di Frozen che abbiamo trovato, e che sono le seguenti, io le trovo tutte e tre molto belle, naturalmente, sono bellissime, quindi abbiamo praticamente completato i personaggi di Frozen, ci mancherebbe soltanto Sven e Olaf, ma non so se verranno messi o meno, io sinceramente spero di sì, ma vorrei farvi vedere quanto sono carini, diciamo che questo calendario è iniziato male, però sta proseguendo bene, onestamente, e quindi ne vale la pena, perché vi ritrovate con tantissimi personaggi. E niente, con questa bellissima immagine di loro tre, direi che posso per l'appunto chiudere il video, e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao! Ciao, ciao!